benvenuti in un altro vlog io sono Alfonso e oggi vi farò vedere dove sono arrivato con lo script che sto realizzando per avere un sistema più semplice per disegnare le texture sul materiale il principio bsdf allora partiamo dall'inizio inizio aggiungiamo un materiale andiamo nello script e aggiungiamo un layer come possiamo vedere in automatico viene creato questo setup di nodi se andiamo in modalità texture noi possiamo già iniziare a disegnare sulla texture che abbiamo creato possiamo aggiungere un altro livello e andare a disegnare su questa texture questa texture viene aggiunta sopra l'altra texture possiamo aggiungere un'altra texture e così via abbiamo anche una piccola anteprima di quello che stiamo andando a disegnare e possiamo andare a scegliere la texture su cui andare a disegnare e viene creato il setup di nodi di volta in volta volendo possiamo cancellare delle texture e così via vi sto facendo vedere la modalità texture perché la modalità material ha ancora un problema cioè quando noi andiamo a creare una texture questa viene aggiunta al materiale incascata al nodo viene sempre aggiunta sopra e questa texture viene mixata con un mix per adesso con un valore a zero questo perché il prossimo passo sarà creare una maschera che andrà a mixare le varie texture per adesso credo di aver raggiunto un'altra piccola milestone e ci risentiamo presto per un nuovo update grazie